Proseguono i lavori dello stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta per la posa del manto erboso artificiale che consentirà a calciatori e equisti di utilizzare il campo per ambedue le discipline sportive. I lavori continuano senza sosta qui allo stadio Tomaselli, è già stato fatto lo scavo, è stato livellato il piano su cui sarà poi poggiato il manto erboso sintetico e contemporaneamente sono stati iniziati e avviati, sono abbastanza avanti, anche i lavori di contorno come la sistemazione delle panchine che sono state eliminate le vecchie, allargate le fosse per collocare le nuove panchine e sistemata la fascia di contorno esterno dove ci sarà il manto di contorno appunto dello stadio eliminati i cordoli, insomma tutti i lavori che sono magari minimali ma importanti perché si possa realizzare a regola d'arte l'intera opera. Per quanto riguarda i termini dei lavori l'impresa sta seguendo abbastanza bene il cronoprogramma e ritengo, anzi ho la certezza che li concluderanno certamente entro i termini stabiliti dal contratto. Sembra quindi avvicinarsi sempre più il momento in cui l'impianto tornerà ad essere fruibile per tutti ad iniziare da chi ama praticare lo sport.